Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo 22esimo appuntamento con la nostra Master League, con la nostra Roma, signori io sono Maullo e oggi continuiamo la nostra rincorsa verso il secondo posto per ottenere la promozione, signori noi veniamo dallo scorso video in cui abbiamo battuto l'Ajax per 4 a 3 e piano piano stiamo risalendo la classifica, signori allora stiamo arrivati a un punto di non ritorno, ovvero mancano le ultime 15 partite Nel senso l'ultimo turno contro Rio di Janeiro, Parma, Arsenal, Dortmund, Firenze, West Ham e Ajax, signori le ultime 7 partite, ci siamo giocati tutte fino a noi, siamo partiti malissimo con una serie di sconfitte ma poi piano piano ci siamo un attimino rifatti Detto questo io non perderei altro tempo, a partire col video prima, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto, vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti, signori Detto questo, detto questo, allora, io sto registrando come al solito in successione al video che avete visto mercoledì, quindi non so cosa ne avete scritto su Roberto Carlos ma io rimango sempre dell'idea di poterlo comprare e metterlo lì sulla fascia sinistra E poi vedremo, effettivamente ci servirebbe anche un buon attaccante Un buon attaccante ma per l'attacco, perché non mi riconosce più la formazione, ma porca Devo andare di fare nuove in tutte le modifiche ogni volta, che rottura di scatole in mane, che rottura di scatole in mane E' bello che lo salvo e lui non gli interessa, non gli interessa, o utente Ci riuscirà, lo capirà questa volta? E chi lo sa? Allora, per prima cosa, Bolatta e ci mettiamo Babangita Totti lo andiamo a mettere al posto di Ximenez Totti deve cambiare con Miranda Espimas deve cambiare col Castello E Totti con Castello, giusto? Quindi, Babangita intanto lo mettiamo a questa parte Quindi Espimas di là, Babangita di qua, Castello al centro Totti, Miranda e a posto di Cellini gioca Vorlander Sono tutti distrutti? Abbastanza, ma non ci interessa Signore, andiamo a giocare contro il Rio de Janeiro Scendiamo in campo Boh, dovremmo esserci, signore Ci servono altri tre punti Ci servono altri tre punti per continuare nel sogno promozione, signori Che poi l'anno prossimo prenderemo le batoste più grosse Però, però, però Noi dobbiamo sempre rimanere con i piedi per terra Nessuno ci avrebbe dato per promossi quest'anno E invece ce la stiamo a giocare Ce la stiamo giocando Ce la stiamo giocando Ecco, guarda come abbiamo già subito il primo gol Calcio d'angolo Edmundo Calcio d'angolo Dai così, siamo fuori casa Ultima partita, signori L'ultima volta che giochiamo contro il Rio de Janeiro Quindi ultimi tre punti facili Cheat Cheat Castello, 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 Castello Attenzione Castello Hai lato strada Castello, è grandissimo che lancia Spimas Spimas, 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 Spimas Spimas Spindonato Ma trova il gol di Bras Cioè, signori Io da due episodi Che dico che voglio comprare Roberto Carlos Per metterlo al posto di Spimas Spimas mi fa due golli in due partite Cioè, non ha mai visto Non ha mai citato Un passaggio giusto Spimas Ma ha fatto due golli in due partite Va bene Va bene Va bene Allora, io di sicuro mi prenderò Allora Mi fermerò un attimino Prima di registrare gli episodi di domenica e di lunedì Quindi così avrò un modo di leggere I vostri commenti Mamma mia I vostri commenti I vostri suggerimenti Per quanto riguarda L'eventuale acquisto del prossimo giocatore Quindi vediamo un attimino Mannaggio Mannaggio No No Faccio Ma porca miseria Ma porca miseria Ma come faccio a sbagliare Sempre Faccio le stupidaggini più grosse Riesco a portarmi in vantaggio E poi faccio le stupidaggini E poi ci pensa Babagita Così da nulla signori Il Bamba Ci pensa lui Tra uno della Roma Fa tutto lui Fa tutto lui Signori Entra in aria Zitto zitto E la piazza Dove il portiere Non può arrivare Fa tutto lui Babagita Super Bamba Signori Super Bamba Gol E il Bamba Gol Va bene così Va bene così Vediamo se dobbiamo fare qualche altro stupidaggio Dobbiamo fare come con Con l'Ajax Che vincevamo 4 a 2 No che vincevamo Siamo sempre andati in vantaggio Con l'Ajax E poi abbiamo preso ogni volta Il gol del pareggio Valeri 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 Totti 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 Cercato Castello No Fuori gioco di Espimas Mannaggia 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 Diciamo che riusciamo a far girare bene il pallone Totti 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 Nel cerchio di centrocampo Totti 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 Per Castello Castello per Espimas 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 Mannaggia Non poteva andare Attenzione ancora Vorlangen 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 E cerca Totti Contrastone su Totti Che decide poi di tornare Prepotentemente sul pallone Ma non ci riesce Attenzione Al Vasco Dovebbe essere il Vasco da Camerio Decianere Porca No vabbè Dai che cazzarola Però Ivanov Datti una svegliata Signori Riusciamo a evitare di prendere il gol del 2-2 Porca di una paletta ambriaca Totti 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 Ancora Totti Guarda Grandissima palestra Guarda per Espimas 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 Lì ci vuole un giocatore Che strappi pure su quella fascia Perché ci lasciano gli spazi più totali No Miranda mio Miranda mio Mannaggia a te a chi non te lo dice pure Miranda mio Guarda che anche quel ruolo In quella parte del campo È molto Di grande Mamma mia ancora pallone Espimas Vuoi andarci sul pallone Oppure no Oppure ti annoia proprio Abbiamo perso l'attimo Attenzione Jorga Jorga ci prova dal nulla Rimesso Ha preso palo? Ha preso palo Jorga? Palazzo pieno di Jorga Mamma mia Attenzione Pallone ancora al centro campo Vorlangen non riesce a spizzarla bene di testa Recomano loro palla Attenzione Jorga 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 Secondo per noi Dai 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 Giochiamo lì per Jorga Jorga che vede Miranda Miranda che la passa subito per un Babangida Ma il pallone era troppo lontano signori Troppo lontano per il Bamba Ci voleva un servizio per Totti Lì non per Babangida Lì guarda Gli regaliamo un calcio d'angolo Gli regaliamo un calcio d'angolo Gli regaliamo un calcio d'angolo Attenzione che sui calci d'angolo Le facciamo proprio schifo Sui calci d'angolo Facciamo proprio schifo Stavamo per prendere il gol Stavamo per prendere il gol Da gol Golbao Chi cazzarola è golbao No no Ma perché Valeri mio Ma la cosa semplice devi fare Oh Il pallone arriva a Babangida Che decide di accentrarsi Il Bamba Il Bamba Il Bamba Il Bamba Mannaggia a te Bamba Mannaggia a te Mannaggia a te Attenzione Attenzione Lo teniamo Lo teniamo in velocità Lo teniamo in velocità Grandissimo Lo teniamo in velocità E poi sbagliamo il passaggio Ma Vabbè Anche loro sbagliano signori Anche loro sono umani Stiamo 2 a 1 Stiamo 2 a 1 Stiamo calmi e concentrati Calmi e concentrati Buono Qui il Diuric Si che si deve l'avversario Che cerca Spimas 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 per vie centrali Per Castello 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 Ho visto inserito i totti Gli volevo dar palla Ma non ci sono riuscito A servirle in tempo No 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 Valeri Santo Valeri Signori Salvataggio di Valeri Che vale una stagione Salvataggio di Valeri Che vale una stagione Giorga Liberato sulla fascia Non riesce Niente Dobbiamo Per forza Pareggiare Signori Non riesco più a uscire Non riesco più a uscire Uff Batti e ribatti Batti e ribatti Signori Batti No Mamma mia Calcio d'angolo Mamma mia Che partite sofferte Mamma mia Che partite sofferte Dai così Fuori sta palla Niente Non No Non riesco a uscire Non riesco a uscire Mannaggia Di una paletta ambriaca Non riesco a uscire Valeri Vedi cosa devi fare Niente Gli piace passarla al centro Valeri Invece di cercare Il compagno messo meglio Valeri La deve per forza Passare Oh Calma Calma Totti 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 a mettere ordine Totti a mettere ordine Per Babagira Per Babagira Che Mannaggia Mi sono allungato troppo Il pallone Attenzione Grandissimo Questo intervento Grandissimo Valeri Bravissimo Valeri Imperioso Valeri Si sta riscattando In questa partita Babagira Invece no Babagira Decisamente no Per fortuna Finisce Sto cazzalato Il primo tempo Mamma mia Il mar di testa Mi è venuto Mamma mia Mi hanno fatto impazzire Questi Allora Cambiamo Cambia ruolo Andiamo a metterci Babagira Sulla nostra fascia Di corsa Signori Così ce lo teniamo lì Bello bellino E siamo tutti contenti Attenzione E si parte Miranda 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 Si ferma Miranda Si ferma Cerca tutti 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 Per via centrali Cercato Castello Cercato Babagira Cercato Giorga 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 Che decide di crossarla In un punto in cui Forse era troppo presto Per crossarla Ma lui era molto marcato Quindi è deciso Per questa situazione Un poco sfortunata Ma Giorga Recupera un pallone Che però Perde subito E non riusciamo noi A recuperare sto pallone No Mamma mia Come l'ho vista dentro Dopo quattro minuti Il Romario Vicinissimo Al gol del pareggio Valeri 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 Ok Stromer 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 Per Vorlanger Vorlanger Per Totti 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 Calma Giorga 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 Babangita Babangita Non si fa anticipare Babangita Per Miranda 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 Per Castello Castello Ma porca Calma 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 Signori La partita ancora è lunga Non stiamo perdendo Stiamo vincendo Però vorrei fare qualche gol in più Cazzarola Sono gli ultimi in classifica Signore Se non riusciamo a fare dei punti puliti Contro gli ultimi in classifica Contro gli cazzaroli Dobbiamo fare i punti in classifica Contro il Dortmund No 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 Va bene Va bene Totti 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 Cercato Babangita Non c'era voglia di correre Babangita Babangita non aveva voglia di correre Grandissimo questo recupero di palla Di Giorga Che cerca Babangita 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 Questa volta parte lui Babangita Questa volta parte Questa volta parte Babangita Babangita Ne fa fuori Mannaggia Era riuscito Nel dribbling stretto Attenzione Totti 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 Per Giorga Per Castello Mannaggia Il calcio d'angolo No Guarda come ha girato il pallone Ma Ok Attenzione Spimas Per Castello 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 A limite dell'aria Castello Poca potenza Poca potenza Il 3 a 1 Non mi basta Castello Ricopra subito il pallone Per Totti 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 Per Babangita 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 Mamma mia Che azione Cosa ci siamo mangiati Ma porca miseria Vorlangen Per Castello Ancora Castello Castello Cercato Babangita Che si gira su se stesso Babangita Si è creato di nuovo lo spazio Il Bamba Il Bamba Si è creato di nuovo lo spazio Il Bamba Non commento Non commento Non commento Non commento Non voglio commentare Non fatemi commentare Quello che è appena successo Vorlangen Ancora per Babangita Che si gira ancora su se stesso Il Bamba Il Bamba Il Bamba Questa volta fatta solo E la spoglia Mannaggia Va bene Va bene Ventiduesimo Roma 2 Rio de Janeiro 1 Mi sta bene Allora Mi sta bene per i tre punti Signori Mi sta bene per i tre punti Non mi sta bene per 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 i gol Non mi sta bene per i gol Signori Perché volevo più gol Mannaggia 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 Anche loro avevano un certo Minanda Ecco Guarda guarda Mamma mia da solo Valery Ma come cazzo Lola Ma chi ti ha insegnato a marcar Valery Mamma mia Come proprio Marcarimale Come marchi male Valery mio Attenzione Babangida Babangida per Castello 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 No Babangida mio No È partito tanto velocemente Che è incispicato Totti mio Totti Cazzarola Cazzarola Sveglia Uffa 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 Grandissimo Miranda Miranda Si merita di rimanere Miranda Miranda in quella Attenzione Ah Non è già Castello Ha cercato il passaggio veloce Per il Bamba Che decide di Bamba Mamma mia Come è rimessa dal fondo Che cazzo lo dici Rimessa dal fondo Come ha fatto Babangida Ma che cagata ha fatto Babangida Ma pensavo fosse stato deviato Ma che cagata assurda Riusciamo a prendere le testa No E quando vai Riuscissimo Una volta Una volta A prenderla di testa Una Una L'unico che le prende di testa È Vorlanden Praticamente Che giustamente È alto due metri E non so quanto Quindi giustamente Lui di testa Le vede Attenzione Totti 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 Cercato Babangida Babangida Mi serve un giocatore Per giustare con Totti Signori Mi serve un giocatore Per giustare con Totti Ma che cosa vuoi fare Ma che cosa vuoi fare Totti 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 Parte lui per via centrali Attenzione Totti Totti Vede Babangida 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 Il Bamba Il Bamba Il Bamba Il Bamba Castello 3-1 Il Bamba Da solo Davanti al portiere Si inventa Assisman Altruista Babangida Totti Passettino Leggero E Castello Deve semplicemente Piazzare in porta 3-1 Nella Roma Sul Rio de Janeiro Che dovrebbe essere Il Vasco da Gamba Ripetisco Ancora una volta Io me le scordo Purtroppo Certe informazioni Che do durante i video Poi me le scordo Quindi magari divento Ripetitivo Però vabbè Meglio ripetitivo Attenzione Recuperiamo questo pallone Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Delle vostre sorelle Riusciamo a stopparla Di test Sì Ok Vorlangen Vorlangen Che capitano Di questa squadra Va bene Noi non Non ci creiamo Nessun tipo Di problema Valeri Dannaggia Come ci hanno girato Come ci hanno girato Ci deve andare uno Signori Non ci dovete andare In 8000 Basta che ci va uno No Miranda Ma che brutto fallo Quello è rimasto a terra È morto È morto Signori Juninho Brutto infortunio Per Juninho Sarà così Sarà un brutto infortunio Per me ha preso pallone Non è uscito Quindi non è un brutto infortunio Signori Ci ha preso in giro Ci ha voluto Prendersi il car Farci dare il cartellino giallo Fuori 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 Miranda Miranda per Totti 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 Nei minuti Pazzaviglia E si porta a casa Tre punti Roma Tre Rio de Janeiro Uno Signori Grandissima la prestazione Grandissima la prestazione Della Roma Va bene così Signori Va bene così Va bene così L'Ajax batte 5 a 2 West Ham Quindi West Ham Era mai fuori Da qualsiasi tipo di corsa L'Arsenal perde Conto il Parma Quindi anche l'Arsenal fuori Il Dortmund Batte la Fiorentina È quello che a noi interessa Signori Tre punti recuperati Sulla Fiorentina E forse secondo posto Agganciato O molto vicino Ricordiamo i marcatori Espimas su assist di Castello Babangita su assist di Espimas E Castello su assist di Babangita Signori Bello 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 Quarta vittoria consecutiva Se non sbaglio Sì Dovrebbe essere la quarta vittoria consecutiva Se non sbaglio Andiamo a 33 punti Signori Quindi comunque Il buon Roberto Carlos Nel prossimo episodio Non arriva Dovremmo Dovremmo vincere contro il Parma Per portarci a casa Il buon Roberto Carlos Che costa 34 Ci riusciremo? Non lo so Ci possiamo trovare Signori In tutto questo Siamo terzi a 36 punti Un punto dal Parma Che è al secondo posto Con lo quale Se non sbaglio Dobbiamo andare a giocarlo Nel prossimo video E È un È un Dortmund Che invece È a 4-5 7 punti Come fa a essere 7 punti Il Dortmund Se prima era Boh Non lo so Vabbè Dettagli Dettagli superficiali Detto questo Signore Ribadisco A noi interessa Il secondo posto Signore Quindi Continuiamo così Continuiamo così Detto questo Io vi ringrazio Per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il giudice E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao